Il servizio di webmarketing, questo servizio può essere erogato direttamente dall'aderente ma può anche essere delegato alla struttura del network e l'aderente da questo servizio ne ritrae un piccolo o grande vantaggio a seconda dei casi. Comunque i nostri clienti, i vostri clienti, chi ci contatterà potrà essere anche seguito dal punto di vista del webmarketing.